Musica Concerto da non perdere domani al Politerma di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto e Associazione Malati di Parkinson organizza una grande serata benepica. Sul palco il varesino Luca Guenna che nella musica ha trovato la forza per combattere la patologia. Ora invece parliamo, sempre a proposito di cultura, ma non quella pittorica, bensì quella musicale, di un concerto benefico previsto per domani in quel di Varese, al Politeame, organizzato dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto in collaborazione con l'Associazione Malati di Parkinson. Raccoglierà fondi a favore della lotta a questa malattia e vedrà sul palco, tra gli altri, un varesino, un cantante molto bravo, si chiama Luca Guenna, e affetto da Parkinson e nella musica ha trovato le armi per combattere. Un paio di anni sono stato colpito da una malattia purtroppo grave, non curabile, che è il morbo di Parkinson e ho deciso di reagire con energia, tirando fuori dal cassetto i sogni e i talenti, insomma, perché ho sempre cantato in famiglia con buon successo di pubblico, ma adesso ho deciso di fare le cose un po' più in grande. Ho fondato una band che si chiama Spectacular Band e questa è la prima importante esperienza al Teatro Politeama, quindi una certa dimensione anche di pubblico notevole, perché sono mille posti a sedere, quindi speriamo di riempire il teatro anche grazie al vostro aiuto. Ho creato un fondo presso la Fondazione Comunitaria del Varesotto, fondazione affiliata Cariplo, al favore della ricerca sul Parkinson. e grazie a questa serata sarà possibile organizzare una raccolta spontanea di fondi per rendere questo veicolo più significativo e operativo a favore della ricerca. Tutto questo si è potuto realizzare grazie appunto al patrocinio della Fondazione, ma anche all'associazione Parkinson in Subria, con cui collaboro, e al patrocinio gratuito del Comune di Varese. e anche questo aiuta a fare pubblicità alla cosa. Con la collaborazione importantissima di Claudia Donadoni, amica carissima e anche partner in un'iniziativa musicale che si chiama Unforgettable, che è un duet questa volta, non è una band, che mi aiuta durante la serata a organizzare la scaletta, la struttura dello spettacolo, e fa da presentatrice e inoltre canterà anche qualche brano con me.